Tempo fa ho ricevuto un messaggio di un papà che la figlia aveva scritto nella letterina di Babbo Natale che voleva come regalo il barista di TikTok. Guardate! Caro Babbo Natale, vorrei che mi portassi il barista di TikTok, poi la macchina di Barbie, la casa di Malibu, eccetera eccetera. Dopodiché Babbo Natale gli risponde così. C'è posta per te. Polo Nord, Meet Babbo Natale, ho ricevuto la tua letterina. Ti regalerò un viaggio a Roma dove portassi il barista di TikTok. Dopo tanto tempo, finalmente, dalla Spezia, eccoli qui. Barista di TikTok, ti lancio una sfida. Vorrei rivedere per la mia ultima volta se il tuo cappuccino e il mio cane Eros. Wow, che bello! E perché per la tua ultima volta non mi dire che non c'è più? No. Mi dispiace, è veramente un casino. E allora gli dedichiamo questo super cappuccino tutto per lui. Guarda! Vai Irene, con il tuo Eros. Mi dispiace, ma anche se non c'è più però, è sempre qui, accanto a te. Bene. Dai, batti cinque, che tu sei fortissima, vero? Sì. Brava, ti piace? Sì. Bello. Allora ragazzuoli, com'era il tuo cane sul cappuccino? Fantastico. Ti è piaciuto? Sì. Come si dice? Dal barista di TikTok. Ciao. Ciao.